Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Kenyaman e Demet Ozzemirano fanno innamorare il pubblico durante la messa in onda di Daydreamer Leali del Sogno tanto da sperare di vedere i due attori davvero innamorarti nella vita reale. Ma qual è la verità sul loro, amore? L'estate del 2020 è stata segnata dal successo travolgente di Daydreamer Leali del Sogno, al quale ha favorito notevolmente Kenyaman che aveva già conquistato il pubblico come protagonista di Bittersweet. La fiction ha visto arrivare sulle scene italiane, anche nel campo della cronaca rosa, la bellissima Demet Ozzemir nei panni di Sanem Aiden. Ma, allo stesso tempo, sono stati e continuano ad essere numerosi i gossip che vedono come protagonisti indiscussi i due attori. I due stanno davvero insieme oppure no? Kenyaman e Demet Ozzemir, è davvero amore tra i due attori? Questa è una domanda che spesso si sono posti i fan della coppia e che, in questo frangente, hanno anche seguito con il fiato sospeso il racconto della storia narrata nella serie Daydreamer Leali del Sogno. Kenyaman e Demet Ozzemir, nonostante le varie notizie di gossip, hanno sempre smentito l'esistenza di una relazione tra i due, così come è successo anche davanti le telecamere di Verissimo quando nel 2020 Silvia Toffanin ha accolto i due attori in studio. Eppure, le loro parole non sono state sufficienti a mettere a tacere il gossip che torna, quasi con prepotenza, come protagonista dei media. In che rapporti sono le due star, una seconda domanda alla quale solo recentemente sarebbe arrivata una parziale risposta. Kenyaman, dopo un anno d'amore con Diletta Leotta, un matrimonio annullato, sembrerebbe aver trovato la felicità al fianco di Francesca Del Fa. Facciamo riferimento al volto noto del Paradiso delle Signore, ovvero la turbolenta Venere Irene. Demet Özdemir, invece, già da tempo è legata a Guzan Kok, cantante molto noto in Turchia, insieme al quale dovrebbe convolare a nozze entro l'agosto del 2022. I magazine di Kronaka Rosa Turchi, però, recentemente hanno lanciato lo scoop secondo il quale proprio Özdemir avrebbe deciso di annullare definitivamente le nozze. Un rumor, in questo caso, che non trova nessuna reale conferma. L'unica certezza che riguarda Kenyaman e Demet Özdemir, dunque, sarebbe la loro amicizia, sempre sostenuta e difesa da entrambi. L'amore tra loro, dunque, resta solo una favolosa, incognita per i fan. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.